Federica Aversano una ex protagonista di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha raccontato un periodo difficile della sua vita durante una diretta Instagram con Elpidio Cecere, uno psicologo. L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri per iniziare ha fatto sapere di stare bene, dopo di Shea confessato, quando ha parlato degli attacchi di panico tantissime persone mi hanno scritto, avendo un percorso in atto con lo psicologo che mi ha aiutato tantissimo. Io ho sofferto di attacchi di panico due anni fa. Federica Aversano nota al pubblico per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è lasciata andare a una confessione amara, tramite una chiacchierata su Instagram con lo psicologo Elpidio Cecere. Dopo aver detto di aver sofferto di attacchi di panico, Federica ha aggiunto, Federica poi ha fatto sapere di essersi rivolta allo psicologo Elpidio, che ha raccontato la sua situazione. Avevi 27 anni quando sei venuta da me, avevi rinunciato a scommettere, mi ricordo la prima volta il pianto iniziale, un compagno che non c'era più, un lavoro ancora non trovato. Quello che ho visto in tutto questo percorso era quella parte di te piena di energie e ribellione che forse gli altri non conoscono, che neanche tu riuscivi a vedere. Quella ragazza che non riusciva a gestire le sue emozioni. Poi ho iniziato un percorso di psicoterapia con un'altra dottoressa, ma non vedevo riscontri, io non riuscivo ad uscirne, poi tramite amiche, voci, e anche sul web quando vedevo le sue dirette paradossalmente era il mio calmante. Federica Aversano ha rotto il silenzio sulla sua prima apparizione a Uomini e Donne, raccontando un retroscena, Mi ricordo la mia paura prima di andare a Roma, la mia prima paura prima di entrare in studio era il treno che dovevo prendere da sola, mia madre mi spinse proprio all'ultimo e si chiuse la porta. Stavo tornando indietro, cercavo di riprendere tutte le frasi che lei mi ha sempre detto, ho fatto un'ora di treno da sola però ce l'ho fatta e non ci credevo neanche io. L'ex corteggiatrice ha aggiunto, la mia seconda ansia era entrare in quello studio, sono entrata in quello studio pensando a tutte le mie paure, e mi dava grinta, e da un lato ansia, la prima volta con il microfono tremavo, ma quando uscivo da quello studio era uno scalino in più, mi sentivo un po' più in alto. Federica che di recente si è arrabbiata con Ida Platano, riguardo al percorso fatto nel programma condotto da Maria De Filippi ha dichiarato, un'esperienza stupenda a livello umano e personale, sono entrata in quello studio che avevo gli attacchi di panico e sono uscita con un supporto, diversa più consapevole, gestendo meglio la mia ansia.